Cose che le donne odiano a letto in un uomo Momento molto delicato Voglio dedicarlo alle donne Una bella classifica trash Trash ma dannatamente reale Cose che le donne odiano a letto in un uomo Il meglio del peggio 1. La fretta Lo so, lo so, lo so, lo so Che dobbiamo mettere in forno il biscotto il prima possibile Prima che si sforni Abbiamo fretta, frettissima di arrivare al dunque Ma la donna non è una macchina I preliminari in un rapporto sono forse più importanti del rapporto stesso Cazzo! È questo che gli uomini non riescono a capire Dobbiamo riscaldare la ragazza Poi puoi infornare tutte le torte che vuoi Quando il forno è caldo 2. Egoismo Quello che faccio io è donare prima piacere a lei Senza stare lì a contare i minuti all'orologio Ma solo per il piacere di vederla pagata e soddisfatta Poi veniamo noi Ma prima c'è lei In questo modo sarà bella contenta, soddisfatta, più incentivata E quello che lei ci donerà sarà da Grammy, da Telegatto, da Oscar 3. Durata La durata di un rapporto più o meno soddisfacente Non sono ore o anni Se fatto bene bastano dai 20 ai 30 minuti Però lo so, lo so, lo so, lo so La carne è debole e a volte duriamo dai 20 ai 30 secondi In così poco tempo non ne arriva neanche l'impulso al cervello che gliel'abbiamo inserito È troppo poco 4. Igiene Secondo alcune statistiche, 7 donne su 10 si lamentano delle esalazioni puzzolenti sotto le lenzuola Che oltre a far perdere ogni tipo di impulso e magia Fanno davvero schifo E fanno fare una pessima figura 5. Troppo o troppo poco Toccare troppo forte, mordere troppo forte Non fa piacere Provoca dolore Dobbiamo distinguere fino a che punto noi possiamo spingerci Al contrario, toccare troppo piano Non avere quella decisione e anche quella irruenza se vogliamo Che aiuta l'eccitazione Fa cadere i testicoli al tizio che abita piano di sotto